Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire la IMA D05 che è un amplificatore integrato in classe D che presenta ingressi digitali, il bluetooth e anche il telecomando. Prima di iniziare con la recensione però vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. A breve infatti uscirà la prima recensione di una coppia di diffusori e vi ricordo anche che iscrivervi al canale è anche un modo per supportarmi. Ora iniziamo subito con l'unboxing di questo IMA D05. Una volta aperta la scatola troviamo un classico cavo USB che ci permette di collegare la IMA D05 a un computer poi il classico adesivo con il logo IMA poi un cavo ottico la garanzia scritta in cinese e poi il manuale di istruzioni che è la prima parte scritta in cinese vediamo se c'è anche l'inglese si poi c'è anche l'inglese esatto quindi manuale di istruzioni in inglese e cinese troviamo poi un classico cavo di alimentazione due poli e poi il telecomando che sembra essere di buona fattura non sono incluse però le batterie poi troviamo l'alimentatore che è molto grande infatti è da 36 volt e 6 ampere per una potenza totale di 216 watt e infine dentro la solita busta di plastica troviamo l'amplificatore vero e proprio la finitura è di alluminio anodizzato nero con un piccolo schermo frontale si presenta molto bene anche i contatti dietro sono fatti bene sono dorati si presenta molto bene andiamo subito a vedere il pannello frontale dell'amplificatore per prima cosa troviamo il tasto di accensione che ci permette di accendere appunto l'amplificatore come vedete si accende anche lo schermo purtroppo nel video si vede che lo schermo è intermittente ma nella realtà non è così è infatti un effetto dovuto alla ripresa questo accade quando la frequenza di aggiornamento dei led coincide all'incirca con la frequenza a cui la fotocamera raccoglie le immagini per il video quindi è un effetto ottico che c'è nel video ma nella realtà non esiste poi troviamo il tasto select che ci permette di selezionare i vari ingressi come possiamo vedere in alto a sinistra nello schermo vengono indicati i vari ingressi che sono selezionati oltre all'ingresso selezionato nello schermo viene indicato anche il livello del volume espresso sia in valore numerico sulla destra dello schermo ma anche in basso possiamo vedere una barra che ci indica il livello di volume e inoltre a sinistra viene visualizzata la frequenza di campionamento che sta utilizzando l'ingresso selezionato quando andiamo a variare il volume con la manopola di destra possiamo notare che il valore numerico del volume si ingrandisce e prende tutto lo schermo questa è una funzione molto promoda dato che lo schermo è veramente piccolo quindi non è leggibile a una distanza di più di un metro quando invece andiamo a variare il volume i numeri diventano molto più grandi quindi si può leggere il livello di volume anche a distanze molto maggiori comunque poi vedremo meglio in dettaglio la funzionalità dello schermo quando andremo ad analizzare il telecomando ora passiamo a vedere il pannello posteriore che comprende l'antenna bluetooth l'ingresso pc l'ingresso ottico l'ingresso corsiale l'ingresso analogico destra e sinistra poi abbiamo l'uscita di linea per un subwoofer poi i connettori per i diffusori canale destro e canale sinistro e infine abbiamo l'ingresso per l'alimentatore in particolare possiamo usare gli alimentatori da 24 volt fino a 36 volt vediamo ora il funzionamento del telecomando abbiamo il tasto di accensione che promette l'accensione dell'apparecchio e sullo schermo possiamo vedere che on parla scritta welcome digital file audio e subito dopo viene visualizzata la schermata standard che ci indica l'ingresso selezionato che sarà l'ingresso che abbiamo utilizzato l'ultima volta prima di spegnere l'amplificatore la stessa cosa vale per il volume che rimane lo stesso prima dell'ultimo spegnimento con il tasto select andiamo a selezionare sequenzialmente i vari ingressi come possiamo vedere infatti nello schermo in alto a sinistra cambia l'ingresso che è selezionato con il tasto mute andiamo a mutare l'amplificatore infatti vediamo che spariscono i numeri indicativi del volume con i tasti bass più e bass meno andiamo a regolare il controllo di tono dei bassi e degli alti e come possiamo vedere sullo schermo viene indicata l'entità del guadagno che andiamo a dare ai bassi positivo o negativo andiamo da più 12 dB fino a meno 12 dB quando vediamo indicata la scritta 0 dB il controllo di toni è disattivato la stessa cosa vale anche per i tasti treble più e treble meno che vanno a regolare sempre il controllo di tono degli alti sempre da più 12 a meno 12 dB e sempre anche qui se mettiamo su 0 dB il controllo di toni è disattivato abbiamo poi il tasto centrale che è il tasto del loudness che in particolare ci permette di attivare due tipi di curve di loudness o di disattivarla per chi non lo sapesse il loudness diciamo che è una funzione che permette di impostare una curva di equalizzazione che va ad esaltare i toni alti e i toni bassi e tecnicamente dovrebbe andare a compensare l'orecchio umano infatti l'orecchio umano quando ascoltiamo a basso volume percepisce meno i toni alti e i toni bassi quindi diciamo che è una funzione che dovrebbe andare a compensare la risposta dell'orecchio umano quando andiamo a ascoltare a basso volume poi abbiamo il tasto EQ che ci permette di selezionare delle varie curve di equalizzazione in particolare abbiamo la curva country heavy rock jets little rock rap e poi normal che ci indica che le curve di equalizzazione sono disattivate abbiamo poi il tasto recover che fa comparire la scritta hi-fi sullo schermo e ci permette praticamente di disattivare in modo veloce le equalizzazioni eventualmente inserite non va però ad agire sui controlli di tono infatti premendo il tasto recover i controlli di tono rimangono comunque inseriti poi abbiamo i tasti per la regolazione del volume e come ho detto precedentemente il numero indicativo del volume prende tutto lo schermo e diventa molto più grande che ci permette di leggerlo anche a distanze più grandi infine per ultimo abbiamo il tasto display che ci permette semplicemente di attivare o di spegnere il display andiamo a vedere brevemente le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore nella sezione chipset troviamo tutti gli integrati che fanno parte di questo amplificatore il primo il CM6642 è un integrato che si occupa della gestione dell'ingresso USB per computer poi troviamo il TAS 5508 della Texas Instrument che è un processore PWM quindi sostanzialmente questo riceve un flusso di bidigitali e li trasforma in un segnale PWM che va poi mandato al secondo chip sempre della Texas Instrument che è il TAS 5352 che riceve il PWM dal circuito integrato precedente e amplifica il segnale proprio come il TAS 5352 è praticamente il vero e proprio classe D è la parte che si occupa quindi dell'amplificazione vera e propria poi troviamo il QCC3008 che è un circuito della Qualcomm e si occupa della ricezione del Bluetooth poi troviamo il CS8422 che è un convertitore di sample rate e infine il WM8782 della Circus Logic che è un ADC quindi un Alalog to Digital Converter a cosa serve questo ADC? serve praticamente a convertire il segnale di linea proveniente dagli ingressi RCA a un segnale digitale che poi verrà elaborato dai chip del Texas Instrument quindi una delle prime cose che c'è da dire di questo amplificatore è che il segnale analogico che viene in ingresso dall'ingresso RCA viene sempre convertito in digitale infatti quando noi selezioniamo l'ingresso analogico possiamo notare che compare la scritta del sample rate di 48 KHz poi ci viene indicato il range di tensioni che può accettare in ingresso l'amplificatore qui dice da 24 a 36 V e non si può superare i 36 V la sensibilità di ingresso che ci indica il valore di V in ingresso agli ingressi analogici ovviamente per cui con il volume al massimo si raggiunge la massima potenza dell'amplificatore in questo caso 0,77 5 V la risposta in frequenza data da 20 Hz a 20 KHz in un range di più o meno 1 dB poi nella parte di misurazioni vedremo se effettivamente è migliore o peggiore poi il rapporto segnale rumore è maggiore o uguale di 105 dB quindi direi molto buono distorsione armonica totale 0.001% a 1 KHz 1 W quindi se il valore è reale ci dà anche a che frequenza e a che potenza è dichiarato questo valore è un valore molto buono se è reale ci dice addirittura la distorsione del Bluetooth che è dello 0.01% ci dice inoltre che il Bluetooth è una versione 5.0 e supporta i codec ACC SBC APTX APTX LLP mentre non supporta la PTX HD ci dice anche le impedenze dell'autoparlante a cui possiamo collegarlo che sono dai 4 agli 8 Ohm poi ci dice la massima potenza erogabile che sono 120 W su un carico da 4 Ohm e possiamo già dire che è abbastanza realistico poi comunque vedremo meglio nella parte di misurazioni poi ci dice il sample rate che possono supportare gli ingressi digitali e sia l'ingresso PC che quassiale che ottico supportano sample rate da 192 KHz e 24 bit il collegamento con PC supporta Windows XP Windows 7 Windows 10 Mac Linux e anche l'OTG dei cellulari poi vengono indicati altri dati meno interessanti come le dimensioni e il peso ora andiamo subito ad aprire l'amplificatore per vedere il circuito all'interno una volta rimosse le viti frontali e posteriori possiamo aprire il coperchio e vedere il circuito come possiamo vedere il circuito è ben fatto e mi sembra molto ben ingegnerizzato possiamo notare nella parte in basso a sinistra un generoso dissipatore che ha il compito di dissipare il calore prodotto dal TAS 5352 che è appunto la parte di amplificazione in classe D devo dire che comunque durante l'utilizzo l'amplificatore non scalda praticamente per niente quindi il dissipatore fa bene il suo compito e c'è da dire anche che probabilmente il chip di amplificazione scalda veramente poco appena sopra di esso troviamo 5 condensatori elettrolitici che penso siano sulla parte di alimentazione dell'amplificatore quindi fungono da riserva energetica per l'amplificatore subito sopra il condensatore elettrolitici ci sono le 4 induttanze di filtro dell'uscita del classe D abbiamo 4 induttanze perché anche questo è un amplificatore a ponte quindi per ogni canale il positivo amplifica il segnale in fase mentre il negativo amplifica il segnale in controfase le induttanze sembrano di buona fattura e appena sopra le induttanze troviamo i condensatori di filtro spostandoci nella parte a destra del circuito possiamo individuare altre cose interessanti come ad esempio il chip del bluetooth il QC3008 che ho evidenziato con il cerchio rosso più in basso nella parte centrale troviamo il Sirius CS8422 il sample rate converter e sotto di esso il TAS5508 della Texas System che è appunto il generatore di PWM mentre il TAS5352 si trova sotto il dissipatore bene dopo questa ispezione interna possiamo passare alla parte di misure come al solito come prima cosa andiamo a vedere la differenza di risposta a frequenza su un carico da 4 ohm e su un carico da 8 ohm in particolare è rappresentato con la curva verde la risposta sul carico da 8 ohm mentre con la curva arancione è rappresentata la risposta sul carico da 4 ohm possiamo subito notare che la risposta verde quindi sul carico da 8 ohm è totalmente lineare infatti stiamo parlando di un'attenuazione di circa 0,2 dB a 20 Hz invece a 20 kHz è praticamente totalmente lineare il picco dovuto al filtro del classe D infatti è molto contenuto arriva attorno ai 30-40 kg se stiamo parlando di solo 0,1 dB quindi possiamo dire che su 8 ohm l'amplificatore è totalmente lineare per quanto riguarda invece la risposta su 4 ohm abbiamo la stessa situazione per quanto riguarda le frequenze basse quindi circa meno 0,2 dB a 20 Hz mentre a causa del filtro di uscita del classe D cosa comune a tutti gli amplificatori in classe D abbastanza economici la risposta sulle altre frequenze differisce fra i due carichi infatti su 4 ohm a 20 kHz abbiamo un'attenuazione di circa 1 dB e 2 1 dB e 3 è comunque un'attenuazione molto contenuta e anche la variazione sul carico è molto contenuta quindi possiamo fare due considerazioni la prima è che comunque nonostante ci sia una dipendenza dal carico questa è molto limitata la seconda è che la risposta è perfetta su un carico da 8 ohm mentre sul carico da 4 ohm è comunque molto buona ma non è perfetta questo ci dice che il filtro di uscita è stato progettato in modo da funzionare al meglio sui carichi diciamo attorno agli 8 ohm e un po' meno sui carichi da 4 ohm questo grafico e anche i grafici che vedremo in seguito sono stati ottenuti con un segnale in ingresso di 192 kHz 24 bit utilizzando l'ingresso digitale quassiale nel secondo grafico possiamo andare a notare la differenza tra il canale destro e il canale sinistro infatti sono rappresentati entrambi i canali e la risposta su un carico da 8 ohm possiamo vedere con la curva rossa il canale destro e con la curva verde il canale sinistro possiamo notare che sono praticamente identici quindi il matching fra i canali è veramente ottimo nel grafico seguente invece vediamo la risposta dei controlli di tono in particolare la curva verde è la curva con i controlli di tono disattivati ed è sostanzialmente identica a quelle precedenti mentre partendo dall'alto verso in basso troviamo la curva rossa che ha i controlli di tono bassi a più 12 db e i controlli di tono alti a più 12 db poi abbiamo la curva arancione che è stata ottenuta con i controlli di tono bassi a più 6 db e i controlli di tono alti a più 6 db poi abbiamo la curva viola che è stata ottenuta con i toni a meno 6 db entrambi i toni e poi la curva gialla che è stata ottenuta con entrambi i toni a meno 12 db possiamo vedere che l'intervento è molto regolare e molto preciso giusto per curiosità visto che io in realtà non le ho mai utilizzate a parte la prima volta perché le trovo abbastanza inutili andiamo a vedere la risposta delle equalizzazioni delle varie equalizzazioni che l'amplificatore ci permette di inserire per mia filosofia non ne comprendo l'utilizzo però qualcuno può trovarle utili comunque si possono attivare o disattivare io le ho sempre lasciate disattivate durante le mie prove però a titolo informativo pensavo potesse essere interessante andare a vedere effettivamente che curva di equalizzazione va a impostare l'amplificatore partiamo subito dalla curva bianca che corrisponde all'equalizzazione light rock poi abbiamo la curva blu che corrisponde all'equalizzazione country la curva arancione corrisponde all'equalizzazione rap la curva gialla alla jazz la curva rossa alla heavy rock mentre la curva verde è la risposta dell'amplificatore con l'equalizzazione disattivata andiamo poi a vedere anche l'equalizzazione del loudness tenendo sempre come riferimento la curva verde con il loudness disattivato possiamo poi vedere la curva arancione che corrisponde al loudness 2 e la curva gialla che corrisponde al loudness 1 come potete vedere sono curve che vanno ad esaltare la parte bassa dello spettro e di molto anche quindi io ho provato a utilizzarle però possono venire utili proprio solo se ascoltiamo a basso basso volume purtroppo per voi questo amplificatore ha un sacco di funzioni quindi dovete sorbirvi un sacco di grafici passiamo a un altro grafico questa volta è l'ultimo di cui quanto riguarda le risposte in frequenza andiamo ad analizzare l'uscita sub quindi andiamo a vedere la risposta che ha l'uscita sub questa uscita è regolata sia dal volume ma è anche soggetta ai controlli di tono quindi i controlli di tono bassi influiscono su questa risposta infatti come possiamo vedere abbiamo tre curve che sono state ottenute con il controllo di toni bassi a tre diversi livelli non influiscono invece su questa uscita le equalizzazioni che vengono attivate come ultimo grafico andiamo a vedere infine quello della potenza erogata è diviso in tre parti la prima con un alimentatore da 32 volt 5 ampere ho visto infatti che questo amplificatore viene spesso venduto anche con un alimentatore 32 volt 5 ampere in questo caso l'amplificatore riesce a derogare una potenza di 50 watt per canale su 8 ohm e di 80 watt per canale su 4 ohm stiamo sempre parlando di potenze con entrambi i canali in funzione e con una THD massima dell'1% le prestazioni migliorano con l'alimentatore da 36 volt 6 ampere che era l'alimentatore che ho incluso con il mio amplificatore infatti arriviamo a una potenza di 80 watt per canale su 8 ohm e di ben 105 watt per canale su 4 ohm per portare però al limite il chip di amplificazione di questo amplificatore abbiamo però bisogno di un alimentatore da 36 volt 7 ampere che ci permette di erogare la stessa quantità di watt su 8 ohm ma di arrivare alla bellezza di 120 watt per canale su 4 ohm ecco io ho voluto fare questa prova solo per andare a vedere la massima potenza che riusciva ad erogare il chip vi sconsiglio di cambiare l'alimentatore e di andare a prenderne uno con un ampere in più cioè è una differenza che secondo me non vale la pena spendere soldi per prendere un altro alimentatore quando già con l'alimentatore da 36 volt 6 ampere abbiamo una buona potenza ecco altri dati interessanti sono il consumo dell'alimentatore quando l'amplificatore è spento che è di circa 1.7 watt il consumo dell'amplificatore quando è in stato di mute che è di 4 watt e il consumo dell'amplificatore quando è acceso ma non c'è applicato nessun segnale che è di circa 8 watt sono andato anche a misurare il massimo segnale analogico che può ricevere in ingresso l'amplificatore senza distorcere è di circa 2,5 volt questo è un dato molto importante da sapere in quanto visto che viene utilizzato un ADC per convertire il segnale analogico in digitale non possiamo applicare segnali maggiori di 2,5 volt altrimenti la DC va a fondo scala e il segnale che ne deriva è totalmente distorto quindi possiamo tranquillamente collegare una sorgente analogica ma il suo livello di uscita non deve superare i 2,5 volt passiamo ora alle note d'uso e d'ascolto ho trovato questo amplificatore veramente molto comodo infatti è al tratto del suo telecomando che funziona veramente bene lo schermo è sì piccolo quindi non riusciamo a leggere praticamente da lontano tutte le indicazioni che ci dà come la frequenza di campionamento e altre cose però è veramente molto comodo quando andiamo ad alzare e abbassare il volume infatti ci indica a che livello di volume siamo non ho utilizzato l'ingresso analogico in quanto l'ho collegato al tv tramite cavo ottico quassiale e allo streamer con cavo quassiale digitale e ho utilizzato anche il bluetooth mi sono trovato molto bene molto comodo non ho mai avuto problemi nessun inceppamento nessun nessun tipo di problema per quanto riguarda il suono è molto buono tenendo conto del prezzo infatti il suono è molto molto buono è molto preciso e lineare i bassi sono belli profondi avvolgenti il dettaglio è presente piacevole e quindi trovo che abbia un ottimo suono e sono tentato di dire che finora tra quelli che ho portato sul canale è quello che ha il suono più preciso più piacevole secondo me veniamo infine e con sfetti voti finali allora alla potenza ho dato un 8,5 infatti abbiamo un'ottima potenza non esagerata però con un alimentatore da 36 volt siamo in grado di pilotare a un decente livello di pressione sonora praticamente quasi tutti i diffusori domestici poi la risposta in frequenza ho dato un 9 infatti come abbiamo visto degli affici precedenti ha un'ottima risposta in frequenza per quanto ho spiegato poco fa ho dato al suono un voto di 9 al design ho dato un 8 in quanto è un design semplice nulla di particolare però è ben realizzato ed è carino alla versatilità ho dato un 9,5 in quanto veramente molto molto versatile ha il telecomando quindi comodissimo da utilizzare ha un sacco di ingressi digitali ha anche il bluetooth e anche un ingresso analogico quindi direi che abbiamo un'ottima versatilità infine al rapporto qualità prezzo ho dato un 9 infatti questo amplificatore si trova su Amazon a circa 190 euro tenendo presente che però spesso si trova la possibilità di attivare un coupon del 5% quindi si scende a circa 180 euro ovviamente non sono pochi però per la qualità e la grande versatilità che ci offre il rapporto qualità prezzo è veramente buono in realtà su Amazon è indicato che viene fornito con un alimentatore da 32 volt 5 ampere però a me è arrivato con un alimentatore da 36 volt 6 ampere quindi presumo che semplicemente ci sia un errore nella descrizione del prodotto di Amazon comunque se volete essere sicuri potete magari scrivere al venditore prima di comprarlo essere sicuri che ve lo consiglino con un alimentatore da 36 volt 6 ampere che è quello più prestante lo stesso prodotto lo possiamo poi trovare in vendita anche su Aliexpress se vogliamo risparmiare un po' e lo troviamo a 126 euro se lo costiamo senza alimentatore se magari abbiamo già l'alimentatore oppure al prezzo di 144 euro con l'alimentatore da 32 volt 5 ampere bene questo video è finito vi ringrazio per averlo visto fino alla fine vi chiedo se il video vi è piaciuto di lasciare un mi piace così mi stimolate a proporvi nuove recensioni e vi ricordo per chi non l'avesse ancora fatto di iscrivervi al canale così rimanete aggiornati sulle prossime recensioni che farò a voi non costa niente basta solo cliccare sul tasto iscriviti ma per me è un grande supporto quindi vi ringrazio nuovamente e al prossimo video vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio